Sono Sergio, mi sono rivolto al centro di psicologia canina perché c'avevo qualche problema con il mio cane guapo nel senso che non riuscivo a godermi a fondo il rapporto con lui e questo era molto dovuto anche al fatto che io ero un po' ansioso e mi nervosivo facilmente e quindi ho fatto una ricerca su internet e ho trovato questo splendido centro di psicologia canina tra i primi risultati, ho chiamato, abbiamo fatto 5 lezioni e ho raggiunto sicuramente dei risultati positivi innanzitutto su di me che mi nervosisco molto molto di meno con lui e ho molta meno ansia e poi anche con lui abbiamo raggiunto dei risultati perché tutto quello che gli hanno insegnato o che gli hanno cercato di recuperare è stato fatto con assoluta armonia, con assoluta tranquillità nessun comando, nessuna imposizione, è stato tutto molto molto naturale quindi sono molto soddisfatto e vi ringrazio molto e sono sicuro che vi ringrazio tra lui perché di certo abbiamo recuperato un rapporto decente, molto decente direi grazie 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 grazie